Si potenzia il pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco con la realizzazione nei locali attigui di sei posti di terapia semi-intensiva. Questa mattina la consegna dei lavori. 180 giorni i tempi previsti per la ristrutturazione funzionale ed impiantistica. Si amplia così l'offerta assistenziale della struttura sanitaria di via Montedoro. Un anno fa noi demmo indicazioni precise che rispetto a chi affermava la dismissione dello spedale di Torre del Greco, noi abbiamo continuato ad investire. Ovviamente i tempi tecnici previsti sia la progettazione che lo sgombero di ambienti hanno terminato che oggi viene consegnato il cantiere, il che vuol dire che la ditta da oggi può mettere mano concretamente a questi lavori. Quando è arrivato stamattina tuttavia non sono mancate le polemiche degli operatori per la carenza d'organico, come si fa fronte a queste problematiche? Purtroppo la carenza d'organico è un dato nazionale. Noi cerchiamo nei limiti del possibile la risposta assistenziale, ma ovviamente i organici sono ridotti. Dopo questi sei posti di sub-intensiva quali sono i prossimi step per questo ospedale? Ricordo sempre che Torre del Greco è un ospedale territoriale inserito in una rete ospedaliera. Qua il discorso del piccolo poliglico non esiste né a Torre, né a Bosco, né a Castellammare, né Sorrento, né Nola. Si deve ragionare in termini di complementarietà. Ci segnalavano che l'ambulatorio di cardiologia potrebbe essere spostato? Guardi, questa è una fake news, nel senso che dobbiamo capire che l'ambulatorio di cardiologia di per sé resta a Torre del Greco. Invece qual è il futuro dell'ospedale di Bosco Trecase secondo i piani aziendali? Fare un polo pneumo cardiologico. Ovviamente poi avendo quattro camere operatorie un momento di chirurgia, ma su questo poi abbiamo ragionato di filiera con Castellammare sia per quanto riguarda l'ortopedia sia per quanto riguarda la chirurgia. Il progetto prevede una ristrutturazione funzionale ed impiantistica dei locali adiacenti al pronto soccorso per la realizzazione di sei posti letto di semi-intensiva, un reparto che si va ad affiancare all'attuale reparto di pronto soccorso e ne completa in qualche modo la gestione dei posti letto per la medicina d'urgenza. Il progetto prevede una estrema versatilità dell'utilizzo degli spazi sia per la gestione ordinaria di patologie da medicina d'urgenza che in caso di necessità per la gestione di patologie di natura infettiva. I posti letto prevederanno diverse tipologie di intensità di cura fino a raggiungere le alte intensità di cura con dotazioni tecnologiche ed impiantistiche capaci di fornire questo tipo di assistenza ai nostri pazienti. Per questi posti letto ci sarà poi personale dedicato? Il personale potrà essere dedicato in via diciamo ordinaria ma nei casi di urgenza potrà essere anche in qualche modo condiviso con il personale del pronto soccorso e completato nel caso di come ci ha insegnato questa pandemia nel caso di carenza delle risorse umane. L'esistenza di questo reparto accanto al pronto soccorso consente di ottimizzare anche dal punto di vista organizzativo la gestione dei ammalati. Ingegnere, quali sono i tempi previsti? La durata presunta dei lavori è di 180 giorni lavorativi. Noi auspichiamo che entro l'inizio del nuovo anno i locali saranno completamente ristrutturati. contestualmente auspichiamo che entro la fine dell'anno riusciremo ad avviare anche tutte le opere di adeguamento sismico strutturale già programmate per l'ospedale Maresca appunto per ottenere quest'ulteriore obiettivo di sicurezza strutturale della costruzione. Il pronto soccorso si potenzia, l'ospedale va verso un rilancio? Assolutamente sì, l'avevamo detto con il presidente De Luca, più riprese in occasione delle sue venute presso il nosocomio, che questo era un ospedale per noi strategico all'interno del comprensorio vesuviano e in tutta la rete ospedaliera pubblica dell'Asda Napoli 3 Sud con l'intervento che si avvia stamattina dai sei posti di subintensiva, tre uomini e tre donne, ciascuna stanza sarà provvista di bagno, quindi significa che stiamo parlando di un reparto vero e proprio che, come hanno già spiegato i tecnici, avrà la possibilità di dare una risposta più performante alla porta di accesso dell'ospedale, il pronto soccorso che è il cuore nevralgico dell'ospedale Maresca, ma avrà anche la possibilità per come sarà strutturato con tutte le zone filtro di essere a disposizione dei pazienti che hanno necessità di maggiore intensità di cura di poterli ospitare come un vero e proprio reparto. Un tassello importante e strategico nella direzione del rilancio dell'ospedale al quale vanno aggiunti i prossimi interventi a partire dal prossimo mese di settembre che riguarderanno tutto l'adeguamento sismico dell'ospedale con un finanziamento importante ministeriale di oltre 8 milioni di euro. La riqualificazione del terzo e quarto piano che servirà all'adeggenza di tutti i pazienti afferenti alle chirurgie che partirà a breve perché il progetto è oramai quasi completamente definito. Un ulteriore importante tassello si aggiungerà con il progetto per la pediatria con uno stanziamento che è stato finalizzato proprio per la branca specialistica da parte del ministero di 5 milioni di euro. Tra i nodi da fronteggiare resta quello della carenza d'organico. È chiaro che qui ci deve essere un intervento globale sia sul piano nazionale e dunque con una ricaduta regionale. Nel frattempo l'azienda sanitaria è chiamata a fare ogni utile sforzo per potenziare il pronto soccorso non solo del Maresca ma di tutti gli altri presidi ospedalieri perché è da lì che partono le cure per rispondere al bisogno di salute dei pazienti.